Senatore, quanto io sto dicendo, quanto sto esponendo a voi, alla stampa e a tutto il paese, è questo il giuramento che io ho spezzato. La testimonianza sotto giuramento che avete ascoltato è uscita dalle labbra di Joseph Valaci. Sentitemi bene. Centomila dollari per Giovalaci. Io lo scanno abbastanza, quanto è vero Dio. Finché Giova sarei vivo, niente pace. Così morirò. Così morirò. Se mai tradisco il segreto di Cosa Nostra. Se mai tradisco il segreto di Cosa Nostra. Soltanto qua, a Nuova York, sarà di vero. Perché qua siamo in morte. Allora avremo cinque famiglie. Mia moglie. Bambino. Che ne sei? In qualunque posto le vorrà andare, io ti do la mia personale garanzia che ci arriva sana e salva, con un nuovo nome, un nuovo passaporto e danaro abbastanza per il resto della sua vita. Da oggi in poi, Giovalaci, tu vivrai secondo la legge della pistola e del coltello. Di coltello e di pistola morirei. Felicità, lunga vita e figli madre. Grazie a tutti. Grazie a tutti.